Ciao a tutti ragazzi, questa è la video recensione dello Xiaomi Mi Band e ne approfitto per ringraziare lo staff di Fandroid allora apriamo la scatola, arrivata dalla Cina io personalmente l'ho acquistato a 22 euro questo è il Mi Band che è composto diciamo in due parti il braccialetto di gomma e questa che è la parte veramente essenziale questo è proprio il Mi Band, vero e proprio dotato di questi due connettori per la ricarica tramite USB e poi qui ci sono dei piccoli LED, diciamo di notifica poi all'interno della confezione abbiamo solamente le istruzioni e il cavetto di alimentazione ok, questo è il cavetto di alimentazione il Mi Band va inserito qui e così noi lo andremo a ricaricare al PC come vedete scritto nella scatola la batteria è da 41 mAh quindi è veramente piccola però vi garantisco che è molto ottimizzata e quindi durerà veramente tanto le istruzioni non sono nella nostra lingua pertanto sono un po' inutili qui c'è il QR code per scaricare l'applicazione però non in italiano pertanto alla fine del video vi lascio anzi sotto il video nei dettagli vi lascio il link per scaricare l'applicazione in italiano applicazione che viene aggiornata e quindi mano a mano abbiamo delle nuove funzionalità riinseriamo il cuore del nostro braccialetto ok, ora vi faccio vedere che è semplicissimo inserirlo e nel frattempo vi dico che per poterlo utilizzarlo avete bisogno di Android 4.4 KitKat e del Bluetooth 4.0 Low Energy allora andiamo a vedere l'applicazione Mi Band che avrete prontamente scaricato allora in questa applicazione ci dice ci fa vedere tutto quello che è possibile fare con il Mi Band ovviamente senza applicazione noi non potremo sapere nulla allora intanto vi parlo delle funzioni principali del Mi Band che sono quelle là di monitorare il sonno quella di monitorare i passi quindi di dirci le calorie consumate e i metri percorsi inoltre è impermeabile punto certificato IP67 quindi potete fare tranquillamente la doccia e lo potrete bagnare senza problemi è veramente leggero e questo cinturino in gomma è molto comodo disponibile in vari colori e ufficialmente dovrebbe essere già disponibile in pelle però a quanto pare ancora io non l'ho trovato allora ritorniamo all'applicazione ah dimenticavo che se tenete il Bluetooth accesso sullo smartphone vi garantisco che il Low Energy Bluetooth Low Energy consuma veramente poco potrete ricevere la notifica della chiamata direttamente sul Mi Band infatti vi faccio vedere chiamate in arrivo allora noi clicchiamo su chiamate in arrivo e ci dice che dopo 3 secondi lui ci notifica la chiamata se noi facciamo trova il Mi Band si accenderanno i 3 led vi faccio sentire la vibrazione vediamo se ci riusciamo ok appunto quando riceverete la chiamata si illuminerà il led e vibrerà stessa cosa quando lo utilizzerete come sveglia è possibile utilizzarlo come sveglia è veramente molto comodo è possibile impostare il colore dei led impostare l'obiettivo giornaliero e quindi se noi andremo a fare un movimento con il Mi Band messo al polso da che abbiamo il braccio diciamo disteso poi lo alziamo e lo ruotiamo come per vedere l'ora dovrebbero accendersi i led per farci capire a che punto siamo una gesture però che molte volte non funziona qui è disponibile la versione firmware che ogni tanto verrà aggiornata l'applicazione io l'ho aggiornata giusto mezz'oretta fa e ho visto già che ci sono delle piccole novità la batteria non la ricarico esattamente da 19 giorni quando è arrivato mi ha detto che era carico l'ultima carica aveva effettuata 30 giorni prima anche se io l'ho caricato al pc quindi in 19 giorni ha consumato circa il 30% che è veramente pochissimo allora qua in questa schermata principale abbiamo i passi che abbiamo fatto in tutta la giornata i chilometri per cozi e le calorie bruciate calorie che vengono calcolate in base al nostro profilo sesso età, altezza, peso ovviamente i passi possono essere contati in maniera errata perché magari se noi facciamo dei movimenti così cancelliamo, parliamo come vedete appunto già sta contando dei nuovi passi però vi garantisco che all'interno nell'arco della giornata bene o male è preciso ovviamente ci saranno dei passi in più allora la cosa comoda è che lui capisce se noi stiamo facendo un minimo di attività lui mi ha detto dalle 18.38 alle 18.47 ho fatto 292 passi e questo è vero perché io in quei 10 minuti mi sono messo a passeggiare nella stanza ora non mi sta dando molti dettagli perché come vi ho appena detto ho aggiornato l'applicazione e con questo aggiornamento ho scoperto un nuovo menu attività sportive che prima non c'era e ci fa sperare che questo menu verrà ulteriormente migliorato infatti adesso abbiamo arrampicata con la corda e quindi possiamo impostare arrampicata con la corda e lui ci dirà il nostro ritmo appunto quante arrampicate facciamo e quindi capisce questo tipo di attività la cosa ci fa sperare vota il tuo sport preferito ci sono una serie di sport anche il nuoto quindi possibilmente chi lo sa un domani potremo utilizzarlo per monitorare altri tipi di attività in questo momento si può sincronizzare con WeChat e con quest'altra applicazione che io onestamente non conosco nell'aggiornamento è spuntata l'icona di Facebook adesso possiamo pubblicare su Facebook i nostri risultati tramite diciamo uno screenshot ok elimina bene come avete visto ho cliccato in questo menu in alto a sinistra e ci dà diciamo le informazioni giorno per giorno ad esempio andiamo in questa giornata mi ha detto che ho fatto 9 km e 4 14.130 passi un totale di 537 calorie quanto tempo ho camminato distanza in corsa ho corso per 12 minuti eccetera eccetera sì effettivamente forse avrò fatto qualche piccolo minuto di corsa per recarmi in qualche luogo magari non lo so quando sono uscito di fretta di casa però non so onestamente se ho fatto 12 minuti di corsa però vi posso dire che quando lui mi notifica in questo modo esercizio alle 13.72 alle 14.25 è così perché io alle 13.31 possibilmente ero seduto e alle 14.25 sono arrivato in un altro luogo e questo vi garantisco che è corretto quindi anche se vi dà qualche passo in più alla fine avete questi dati che sono abbastanza veritieri ritorniamo alla schermata di prima se noi clicchiamo meno ci dà i dati settimanali e ancora ci dà i dati mensili possibilmente ci darà quelli annuali io onestamente non ve lo so dire se invece andiamo alla schermata a sinistra ci dà le ore del sonno sempre a causa di questo aggiornamento non mi sta assegnando il dettaglio della notte scorsa però se andiamo sempre qua mi dice che ieri sera ho dormito 10 ore 30 minuti con 6 ore di sonno profondo e 4 ore e 30 di sonno leggero per ora che ci penso non è quello di ieri sera quindi inteso come oggi ultima dormita ma è dell'altro ieri quella di oggi con questo aggiornamento non so perché se l'è persa lui ci dice le ore di sonno profondo di sonno leggero l'inizio del sonno e la fine del sonno e vi garantisco che l'inizio e la fine del sonno sono veramente corretti stessa cosa qua abbiamo i dati settimanali e i dati mensili e inoltre è presente la possibilità di impostare una sveglia allora in questo momento il mi band è collegato quindi io gli posso dire di attivarsi alle 6 e 30 ok se invece io stacco il bluetooth ok se solo lo trovassi stacchiamo il bluetooth adesso mi dice collega un mi band prima di impostare la sveglia cosa significa che il mi band non ha bisogno di essere perennemente collegato al telefono ma ha una piccola memoria interna che memorizza il tutto ovviamente io consiglio di sincronizzarlo almeno una volta al giorno non sappiamo di quanto è questa memoria quindi onde evitare problemi conviene sincronizzarlo anche perché se poi non guardate i vostri dati è un po' inutile allora abilitiamo di nuovo il bluetooth per la sincronizzazione ogni tanto ci sta qualche secondo in più qualche volta mi è capitato che ha dato errore però molte volte si collega istantaneamente quindi invece ritornando sempre alla funzione della sveglia è possibile impostare la sveglia intelligente che ci inizia a svegliare mezz'ora prima vibrando piano piano la sveglia in sé invece è molto comoda perché ci permette di svegliarci tranquillamente senza il fastidioso suono delle nostre sveglie bene questa era la sveglia che vorrei togliere ma vediamo ok la spegniamo non mi voglio svegliare alle 6.30 domani mattina impostazioni mi band ok possiamo impostare anzi dobbiamo impostare il polso su cui lo mettiamo qui abbiamo condividi e quindi la possibilità di condividere insomma è un tasto in più attività sportive ve l'ho fatto vedere prima il mio profilo è quello là che dovete completare all'inizio proprio nell'impostazione dell'account appunto voi dovrete avere un account sul sito Xiaomi vi lascio il link sempre nei dettagli del video vi conviene registrarvi dal web e poi accedere direttamente al telefono quando installere le applicazioni vi chiederà di registrarvi o di fare il login voi farete direttamente il login bene una cosa che dimenticavo è che se possedete uno Xiaomi Mi 3 o Mi 4 o comunque aggiornato all'ultima versione del sistema operativo Xiaomi avrete la possibilità di sbloccare il vostro telefono avvicinando il Mi Band cosa significa che se io ho il Mi Band lontano e provo a sbloccare il telefono mi dovrebbe chiedere la password ovviamente in questo caso è un Nexus quindi non lo fa mi chiede la password se invece io ho al polso il Mi Band lui in automatico eliminerà la password e quindi mi sbloccherà il telefono tranquillamente bene questo dovrebbe essere tutto quindi questo Mi Band l'applicazione si continua ad aggiornare aggiungendo piccole novità non è precisissimo come tutti gli Smart Band ma a mio parere è molto preciso perché comunque possiamo tenere conto di quello che facciamo tramite queste piccole statistiche e quindi ovviamente se poi ci segna quei 300-400 passi in più perché magari stiamo mangiando secondo me quello non è un problema io spero che verranno implementate nuove applicazioni poterlo utilizzare magari con le applicazioni del fitness magari perché non con Google Fit ma chi lo sa staremo a vedere bene se avete ulteriori domande e dubbi commentate qua sotto nel video questo è tutto da AS Video